Ben trovati, aspettiamo i soliti canolici 30 secondi che si avvii il collegamento. Ben trovati, ben tornati, la settimana scorsa abbiamo trasmesso in diretta con una trasmissione multipla con diversi protagonisti, oggi torniamo alla situazione classica e parliamo di alcune cose successe in settimana ma soprattutto di ciò che succederà la prossima settimana, stiamo organizzando il Consiglio Nazionale Autoscuola Unasca che è un avvenimento molto importante quindi vorrei parlarvi un po' di questo avvenimento perché ha tutta una serie di temi legati a ciò che stiamo vivendo e ciò che avverrà nei prossimi mesi. Intanto un avviso velocissimo, è arrivato da pochi minuti, finalmente fa l'avviso del CED riferito alle patenti errate, le patenti sono in ristampa, sono state ristampate, stanno effettuando la ristampa massiva e verranno inviate agli uffici provinciali e c'è un calendario sulla base degli uffici provinciali per i quali le autoscuole potranno rivolgersi. Si parte da Agrigento il 31 di maggio fino agli ultimi uffici 4 giugno date disponibili per il ritiro. Stiamo rifondendo questo file avvisi così ciascuno saprà quando potrà rivolgersi all'ufficio provinciale. Naturalmente queste sono le date da cui le patenti saranno disponibili, poi ciascun ufficio è aperto alcuni giorni, altri giorni, quindi lì bisognerà prendere accordi con i singoli uffici. Però per esempio Agrigento, Alessandri, Ancona, Ascoli Piceno, Arezzo, Asti eccetera, Avellino conseglieranno a partire dal 31 di maggio, poi via via tutti gli altri uffici con per esempio Milano il 3 di giugno, Napoli il 4 di giugno, Torino il 7 giugno addirittura e così via. Quindi questo è arrivato, fai l'avviso specifica che non bisogna produrre nessuna documentazione particolare, le autoscuole ritirano le patenti, le consegnano ai propri clienti e si impegnano ad avvisare i clienti che le vecchie patenti vanno distrutte come prassi normale. È anche possibile per le autoscuole di studi di consulenza ritirare patenti di altri soggetti naturalmente, soggetti che non sono i loro clienti naturalmente però muniti di apposita delega. È l'avviso numero 16 del 14 di giugno, quindi arrivato poco fa. Detto questo approfitto per dire che con il CED in particolare, con il direttore del CED, Sner Zaza e con il CED abbiamo iniziato una serie di incontri, ne abbiamo avuto uno 15 giorni fa, su alcune procedure, abbiamo parzialmente corretto il precedente file d'avviso, abbiamo impostato la discussione su altre future procedure nel portale e ne avremo un'altra di riunione il giorno 20 in cui il direttore ci parlerà di nuove procedure di pagamento. Credo che tutti sappiate che esiste una norma che prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, non solo la motorizzazione, passino a procedimenti di pagamento telematici, principali quali il famoso Pago PA, quindi anche le autoscuole nel giro di qualche mese, presumo, tempi certi non ne abbiamo, dovranno passare da questa forma di pagamento e giovedì ci verrà illustrato questo percorso per arrivare a questa soluzione. A proposito di incontri, nonostante siamo senza direttore generale, il capo dipartimento è appena arrivato, la vice ministra è stata oggi, anzi ieri, ufficialmente nominata come responsabile della motorizzazione, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto di nomina, anche se già lo sapevamo, quindi a breve inizieremo incontri col capo dipartimento, con la vice ministra, però dicevo il lavoro con la direzione generale, il ministero è andato avanti, in particolare segnalo che c'è stato un grosso lavoro con il settore della nautica, in particolare il nostro responsabile nazionale scuole nautiche, Tommaso Vocanfuso, ha avuto una serie di incontri ed è ormai quasi pronto il nuovo regolamento delle scuole nautiche, così come stiamo avendo un'interlocuzione con la direzione generale per la prossima emanazione del decreto sulla formazione iniziale e periodica della CQC, carta di qualificazione del conducente. Lo scorso anno è stato pubblicato un decreto di ricepimento di una direttiva comunitaria, mancava un po' un decreto attuativo che regolasse un po' la formazione, è quello che stiamo discutendo in questi giorni, quindi a breve, presumo, sarà pronto e verrà pubblicato. In sostanza dovrebbe, se i tempi verranno rispettati, essere pronto per fine 2021, inizio 2022 perché inizierà il nuovo ciclo di formazione periodica della CQC e appunto prevede, tra le altre novità, il fatto che il corso di formazione periodica possa essere diluito nell'arco di cinque anni con dei corsi di moduli di sette ore frequentabili di anno per anno, eccetera, eccetera. Queste sono una delle novità ma ce ne sono anche tante altre. E a proposito di CQC vi ricordo che martedì 18 maggio dalle 10 alle 12 il nostro centro studio organizza un webinar, quindi videoconferenza, con medici e anche i nostri colleghi specializzati sul modulo dell'area medica della CQC. Sapete che in via temporale siamo stati autorizzati come insegnanti a sostituire il medico perché i medici sono impegnati nelle campagne vaccinali, quindi il centro studio ha organizzato questo webinar per dare dei consigli ma soprattutto per mettere a disposizione i materiali che potranno essere utilizzati per questo tipo di corsi. Questa settimana è una settimana in cui abbiamo lavorato sostanzialmente per fare un quadro definitivo delle proroghe. Sulle proroghe 15 giorni fa nella mia precedente diretta avevo avvertito che il governo aveva deciso di emanare un decreto proroga nel quale era contenuta la proroga per le domande esame, non per i fogli rosa. Questa è contenuta nel precedente decreto che parlava in generale dello stato di emergenza e che quindi ha legato la scadenza del foglio rosa alla fine dello stato di emergenza. sostanzialmente su questo decreto che è stato pubblicato sostanzialmente viene detto che tutte le domande esame del 2020 hanno scadenza il 31 12 2021 e che le domande esame registrate entro la fine dello stato di emergenza hanno scadenza i 90 giorni successivi. Questo ha creato però ovviamente dei problemi perché abbiamo un'estensione pratiche quindi che hanno avuto un'estensione e pratiche che invece non ce l'hanno e quindi dobbiamo continuamente fare i giochini per vedere quale candidato va mandato all'esame prima di un altro, non in base alla preparazione ma in base alla scadenza della pratica. Allora abbiamo cercato per l'ennesima volta di intervenire su questo aspetto anche se vi dico l'ostacolo principale è il ministero perché a quanto pare è il ministero che continua a legare la scadenza allo stato di emergenza ma noi ci stiamo provando in fase di conversione di quel decreto che vi dicevo prima, grazie soprattutto all'intervento dell'onorevole Carnevali con cui ho avuto un'interlocuzione giovedì, abbiamo tramite lei presentato un decreto che poi via via abbiamo esteso anche alle altre forze politiche per cercare di far valere questo benedetto concetto che ogni pratica d'esame e ogni foglio rosa deve avere la durata di 12 mesi in maniera che in questo modo tutti hanno la stessa durata ma hanno scadenze diverse in base appunto alla data e non al protrarsi dello stato di emergenza o di altri meccanismi simili che creano solo confusione. Andiamo a seguire i lavori, gli ammendamenti sono stati presentati, la prossima settimana andranno in discussione e vedremo un po' che cosa succede. Sempre a proposito della nomina del vice ministro Bellanova che avrà la delega motorizzazione e autotrasporto mentre il vice ministro Alessandro Morelli avrà la delega al Consiglio della Strada, abbiamo ovviamente l'avevamo già fatto ma abbiamo rimanito la necessità di un incontro con loro, siamo in attesa di conoscere la data ma dovrebbe essere abbastanza imminente così come ci sarà un incontro breve anche con il capo, l'uomo capo di partimento così finalmente potremo cercare di intervenire su alcuni aspetti pratici. Quali aspetti pratici? Beh intanto ci sono alcune cose in sospeso, è rimasto sospeso la pubblicazione del decreto che autorizza gli esaminatori in pensione ad entrare, a dare una mano tra virgolette e aspettare esami in attesa di nuove assunzioni. Questa norma era contenuta nel decreto mille proroghe, questa possibilità veniva data fino al 31-12-2021, siamo a maggio ma ancora non c'è il decreto, abbiamo forte timore che verranno chiamati poco prima di smettere perché se devono smettere il 31-12 rimane poco tempo, quindi è necessario che questo decreto venga emanato quanto prima. Così pure è rimasta in sospeso la questione degli esami da remoto che riguarda soprattutto gli esami di teoria. Gli esami da remoto in sostanza davano la ristrutturazione delle auroesame configurando che ogni postazione esame avesse le protezioni in plexigas, che l'esaminatore non dovesse essere necessariamente in sala esami e soprattutto l'esaminatore non dovrà più procedere al riconoscimento dell'allievo, quindi risparmiando tempo ma soprattutto evitando il contatto diretto. Il riconoscimento verrà fatto dalla macchina stessa, dal computer, nel momento in cui il candidato si siederà davanti al computer. Bene, questa cosa è stata approvata dal Parlamento già molti mesi fa, c'è già stato lo stanziamento di 7 milioni di euro per realizzare tutto questo ma ancora non abbiamo visto nulla di questo senso. E allora anche qui bisognerà accelerare e nello stesso tempo bisogna che il Comitato Tecnico Scientifico insieme al Ministero, non insieme a noi perché questa cosa non riguarda direttamente le autoscuole ma riguarda il Ministero, rivaluti il discorso del distanziamento di 4 metri all'interno dell'aula di teoria perché tutti sappiamo che ormai sta diventando un grosso problema quello di riuscire a effettuare un numero congruo di esami di teoria. Sembrava quasi che fosse impossibile quando lo dicevamo mesi e mesi fa il Direttore Generale ci diceva ma no, non c'è nessun problema, il problema sono solo le guide invece ci stiamo rendendo conto tutti in moltissimi uffici che anche le teorie sono un problema in alcuni uffici non era già da tanto tempo e in altri sta cominciando ad ora. Quindi questi e altri temi verranno affrontati a breve con il Capodipartimento. Ma torniamo all'argomento principale. Abbiamo detto stiamo preparando il Consiglio nazionale autoscuole. Perché insisto così tanto? In fondo che cos'è? Beh, allora il Consiglio nazionale autoscuole è quella riunione che per statuto organizziamo almeno due volte l'anno, normalmente l'organizziamo a Roma in presenza, alla quale partecipano di diritto e oserei dire di dovere, perché sono stati eletti e hanno quest'onere, tutti i segretari provinciali, tutti i coordinatori regionali e tutti i consiglieri nazionali che vengono eletti in ciascuna provincia il numero proporzionale al numero degli iscritti di quella provincia. Quindi che cos'è il Consiglio nazionale? È la massima assise democratica dell'associazione, divisa per settore, c'è uno per le autoscuole, uno degli studi di consulenza e all'interno di questa assise queste persone hanno la delega dei loro iscritti a portare avanti stanze, a discutere i problemi della categoria e a decidere la politica che poi il segretario nazionale e la segreteria dovranno portare avanti. Questo è un concetto su cui più volte sono intervenuto e voglio chiarire molto bene. Il segretario nazionale da solo non decide nulla, non fa nulla e non ha nessun merito. Il segretario nazionale è l'espressione del Consiglio nazionale autoscuole. Viene eletto nel Consiglio nazionale ogni quattro anni. Il segretario nazionale si sceglie il proprio vice segretario e la propria segreteria, cioè le persone che lo aiuteranno nel corso del tempo. Personalmente la mia segreteria è sempre stata poi allargata ad altri colleghi a seconda delle competenze di ciascuno. Ad esempio prima vi citavo il nostro Massimo Boccanfuso, non fa parte della segreteria nazionale, ma di diritto ci partecipa perché ha avuto l'incarico di seguire e sviluppare il settore delle scuole nautiche, per cui di fatto è un membro aggiunto della segreteria nazionale. Lo stesso avviene per altre persone. Quindi queste persone, quelle che normalmente sono prese come il vertice della nostra associazione e in particolare del nostro settore, in verità altro non solo che lo strumento operativo del Consiglio nazionale. Quindi dove decidiamo cosa fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, dentro il Consiglio nazionale. Tanto è vero che già negli scorsi Consigli nazionali abbiamo preso decisioni importanti, abbiamo votato risoluzioni importanti che poi il sottoscritto e i componenti della segreteria hanno cercato di portare a termine. Quindi il Consiglio nazionale è questo. Dallo scorso anno il Consiglio nazionale è svolto in videoconferenza per i motivi che tutti conosciamo. Questo da una parte ha creato il problema di non vedersi in faccia, di non potersi salutare, abbracciare, di non creare intorno all'evento del Consiglio nazionale anche in questo momento di scambio di tante altre idee ed esperienze, però ha dato il grosso vantaggio di aprire la partecipazione a tutti gli associati, è aperto anche quando ci troviamo a Roma, ma è evidente che per un singolo associato che sta da ogni parte d'Italia e venire a Roma a Roma può essere un problema, mentre partecipare in videoconferenza non è un problema. E quindi lo scorso anno ricorderete, ricordo in particolare io perché l'abbiamo svolto il primo il 27 di aprile che è la data del mio compleanno, avevamo in linea 960-970 colleghi che hanno partecipato al Consiglio nazionale a cui avevano partecipato anche il direttore generale Giacalchetti, alcuni rappresentanti della politica, il viceministro di allora Giancarlo Cancellieri eccetera eccetera. E quei partecipanti hanno anche votato alcune risoluzioni importanti che sono state poi quelle che noi abbiamo cercato di portare avanti in questo periodo. La stessa cosa faremo il 23 di maggio. Domenica 23 maggio dalle 10 alle 13 ci riuniremo ancora e ripeto di nuovo è aperto tutti gli associati. È necessaria l'iscrizione che peraltro è già aperta da un po' di giorni, quindi lo potete fare fin da ora, non aspettate gli ultimi giorni perché sennò poi abbiamo problemi organizzativi. L'unica condizione è essere associati, quindi aver rinnovato la quota associativa e iscriversi per tempo. Di che cosa discuteremo? Beh, è ovvio che ne discuteremo soprattutto con gli associati, però alcune indicazioni le voglio dare perché tutti possono sapere e ci confronteranno poi con quello che decideremo. Allora noi sicuramente, fatte salve le cose che abbiamo già deciso, dobbiamo cominciare a ragionare sul momento che il nostro Paese sta affrontando e quindi come le autoscuole si dovranno inserire in questo momento. Allora, tutti sanno che è stato eletto un Presidente del Consiglio che non è un politico ed è stato eletto essenzialmente col compito di stilare un piano per cui presentarsi in Europa, ottenere dei fondi e portare avanti determinate riforme, bene, tra queste che ci riguardano direttamente ne ho sediate alcune. Transizione ecologica, che vuol dire anche nel nostro campo una mobilità diversa. Non a caso, forse l'ho anche già detto, la prima azione che ha fatto il nuovo Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture è cambiare il nome al Ministero. Il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, quindi non una sola, più di una, che però tutte insieme dovranno formare la nuova mobilità nel futuro. Ebbene, le autoscuole devono far parte di questo progetto. Dovranno insegnare le nuove mobilità sostenibili, che vogliono dire per esempio l'elettrico, l'ibrido, probabilmente altre forme di mobilità, altri tipi di motori, l'interconnessione tra le varie mobilità, soprattutto per quando insegniamo e formiamo gli autisti professionali. E allora ecco perché Eurasca, non da adesso, da anni, sta lavorando sulla formazione di insegnanti istruttori. I corsi di aggiornamento, non quelli che stiamo facendo adesso, quelli del bienio precedente, li abbiamo impostati sugli ADAS. E gli ADAS, guarda caso, sono uno degli elementi che porta ai vari gradi di guida autonoma e, per ricollegarci alla CQC, nel decreto CQC che sta per essere approntato, si modificano anche i programmi di insegnamento e vengono inseriti gli ADAS. Quindi avevamo visto per tempo, avevamo già lavorato, abbiamo svolto corsi di formazione per oltre mille insegnanti istruttori, abbiamo fatto delle giornate di formazione specifica con Italia Scania, teorico-pratiche proprio su veicoli industriali e, sempre in questo tema, in questi giorni, in questi mesi, gli accordi con Nissan e Stellantis per la formazione e i corsi di aggiornamento e sceglianti istruttori che stiamo erogando sul tema dell'elettrico e della nuova umilità. Quindi cominciare a prepararci per essere pronti. Ma è chiaro che non basta studiare e fare i corsi, bisogna che il Ministro, il Governo e il Parlamento ci riconoscano come soggetti importanti in questa strada di transizione. Altra parola chiave che mi sono insegnato, transizione digitale. Il nostro Paese sta pensando una grande rivoluzione digitale che cambierà il modo di parlare con la pubblica amministrazione ma anche tra soggetti privati e quindi stati sicuri che cambieranno, e ve l'ho accennato poco fa, anche il modo in cui ci dovremo collegare con il portale, con il Ministero dei Trasporti, eccetera eccetera, le nuove modalità di pagamento, ma non solo. Quindi anche qui dovremo fare un grosso lavoro. E poi l'altra riforma grossa di cui si sta parlando è la riforma della pubblica amministrazione e noi lavoriamo come controfaccia della pubblica amministrazione. E quindi anche qui, già chiesto l'incontro con il Ministro Brunetta, ma soprattutto anche qui pronti a interloquire perché? Perché cambiano le modalità di organizzazione del servizio, in parte l'abbiamo già visto durante la pandemia, con il lavoro agile, eccetera eccetera, ma soprattutto stanno ripartendo concorsi e assunzioni della pubblica amministrazione e noi dobbiamo alzare la voce perché fino adesso la parola motorizzazione, il Ministero dei Trasporti, dentro questi concorsi non c'è, mentre invece dobbiamo, l'abbiamo detto tante volte, ritornare a chiedere che ci sia un numero di esaminatori sufficiente, un numero di esaminatori giovani e un numero di esaminatori formati. Quindi come vedete c'è un campo molto grande su cui lavorare, bisognerà essere presenti, bisognerà insistere, bisognerà fare molte azioni. Devo dire che questa settimana, e concludo, in parte questo lavoro è già iniziato. Sia per il discorso proroghe di cui vi dicevo prima, ma soprattutto per il decreto Trasporti Laguna di Venezia di cui abbiamo parlato già quindici giorni fa, noi ci siamo mossi moltissimo sia come autoscuola che come studi di consulenza. Proroghe del documento unico di circolazione, proroghe nostre, esami in zone russe, queste sono le richieste, visite mediche per le patenti nautiche, queste sono le richieste che noi avevamo avanzato. Sia al Senato che alla Camera non sono stati accettati perché è stato detto questo decreto non può contenere questi elementi. Ma sia al Senato che alla Camera le due commissioni, tutte insieme, anzi alla Camera non solo alla Commissione dei Trasporti, ma anche alle altre commissioni, hanno sottolineato che il Parlamento non ha avuto l'occasione per poter intervenire su temi urgentissimi e più volte presentati. E giovedì la Camera, liquidando questo decreto, approvandolo, ha emanato un ordine del giorno in cui si sollecita il governo a emanare un decreto specifico sui trasporti che contenga tutte queste istanze che più volte sono state sollevate ma non sono state soddisfatte. Alcune istanze riferite alle revisioni, agli esami, alle patenti, ai servizi alla motorizzazione, ai collaudi, quindi ci sono tantissime cose e anche questo e qui dobbiamo subito, abbiamo già cominciato, ma dobbiamo intensificare l'azione perché in questo decreto che pare sia in preparazione, devono entrare questi temi e ce ne abbiamo tanti. Ce ne abbiamo tanti perché i temi sospeso ne abbiamo tantissimi, li avevamo già prima della pandemia, li abbiamo avuti e accentuati durante la pandemia, quindi là dentro dobbiamo cercare di trovare soluzioni. Soluzioni che, ho già detto più di una volta, a mio avviso passano dal Parlamento ma poi devono trovare esecuzione pratica dentro il Ministero. Molte volte, e l'abbiamo visto, ho citato prima due esempi, esaminatori in coscienza e esami da remoto, il Parlamento approva alcune cose ma queste cose rimangono ferme al Ministero. Invece dobbiamo creare una situazione per cui tutti e due lavori di riparo in passo e si arrivi a risolvere i nostri problemi. Ma ripeto, di tutto questo parleremo diffusamente domenica 23 maggio dalle 10 alle 13 del corso del Consiglio Amastrale Autoscuole. Aperto tutti gli iscritti, vi invito quindi ad andare a iscrivervi per poter partecipare. Per chi si è collegato in ritardo, ricordo, è appena arrivato il file avvisi del CED sulle patenti errate che saranno in distribuzione nei vari uffici provinciali a partire dal 31 di maggio. Naturalmente, non in tutta Italia, ma ogni ufficio ha giorni diversi per cui riceverete a momenti, se non è già stato inviato, il file avvisi e vi potrete poi organizzare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e arrivederci alla diretta Facebook di venerdì, ma soprattutto al Consiglio Nazionale di domenica 23. Buona giornata.